Musica Entro il mese di ottobre il Consiglio regionale legifererà, la città metropolitana avrà delle competenze sulle quali lavorare concretamente? Sì, la legge definisce le funzioni fondamentali, su queste stiamo già lavorando. La legge dice poi che le regioni possono delegare a città metropolitane delle funzioni e in corso di esame al Consiglio regionale del Piemonte la legge delega della regione da cui derivano le materie trasferite alle città metropolitane entro il 31 ottobre e quindi noi stiamo interloquendo con la regione per arrivare sulla base di un accordo alla conclusione di questo iter. A partire da lì finalmente saremo in grado di avere un quadro chiaro di tutte le competenze e quindi oggi stiamo partendo sulle funzioni fondamentali che la legge ci dà. A partire dal primo di novembre si avvierà l'attività anche nelle funzioni delegate. Grazie! Grazie!